E' meglio se cacchi un'altra pistola da quelle chiappe, perché ti giuro, se non ne tiri una qua su, entro due secondi la uccidiamo, questa bagascia. Visto? Te l'ho detto. Ora, con le mani dove possiamo vederle, molto lentamente vieni su. Come stai, demente? Meglio, ora che vedo la tua orrida faccia.